Questa è una palancia un po' diversa, che ci solleviamo e tratteniamo la posizione. Semplicemente tratteniamo la posizione, abdominali tesi, ci aiuta anche con la schiena, con la parte posteriore della gambe, tratteniamo la posizione. Chiedo a mio marito di aiutarmi a capire quanti secondi abbiamo. Ancora 40 secondi per favore, trattiene gli addominali perché non posso guardare il mio orloggio in questa posizione. Spale indietro, gli addominali tesi, trattenete tutto perché gli esercizi in isometria sono meravigliosi. Allena un po' tutto, tutto il sistema, continuate. Marito quanti? Quanti? Ha manco da 15 secondi mi dice. Ok, dietro la telecamera si sta allenando anche lui. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e relax. Passiamo al prossimo esercizio. Appoggiatevi su un gluteo, proprio sulla parte del gluteo, stendete le gambe e andiamo in diagonale. Ok? Teniamo la posizione il più possibile. Ok, continuate, tenete la posizione. Fatete sollevare e scendere volendo. Ok? Su e giù. Ok? Piccole piccole contrazioni. Io amo tantissimo l'isometria perché penso che l'isometria è un modo eccellente per fortificare il corpo mantenendo l'eleganza. Ok? L'eleganza dei muscoli, tenendoli belli lunghi. Ok? Ancora 5 secondi, siamo a 30 secondi di quasi isometria perché se sono in movimento. Però adesso piccola torsione. Ok. Adesso diventa difficile. Adesso diventa un bel allenamento e continuiamo. Ci mancano ancora 15 secondi, poi passeremo dall'altra parte. Ricordate che potete, ok? Interrompere quando volete, ma ributtatevi nella mischia appena che potete. Ok? Questa è una cosa importante. Ricuperi sì, relax, ma non utilizzate i ricuperi come scusa di non fare più niente. Ok? Cambiamo dall'altra parte. Saluto sulla parte più cicciottosa del gluteo. Incrocio le gambe. Ok? Tengo la posizione. E qui possiamo fare piccoli e miccoli assestamenti giù e su. Ok? Un'isometria decidi tu dove ti senti meglio sulla schiena. Ok? Questi sono i movimenti che ci devi crescere. Ok? Quando io ti faccio il menuto di un movimento, perché se tu sei a livello del mio video, vuol dire che non si arriva in questo video. Così, allenandovi con me, ok? E siamo a 30 secondi. Scatto finale. Piccoli movimenti. Abdominali tesi. Grandi sorrisi. Ok? L'abdome, se si allena tutti i giorni, ti darà grandi soddisfazioni, te la posso garantire. Sono le ultime 12 secondi. E poi passeremo al prossimo esercizio di oggi. Ci mancano ancora 7 secondi. Continuate. Vai, vai, vai. Ci siamo. 4 e 3 e 2. E stop. Eccellente. E andiamo subito sul prossimo esercizio. Io adoro la plancia. La plancia è un esercizio che ci permette veramente di fare tantissime cose. Perché innanzitutto elimina il problema di avere dolore sulla schiena quando ti stai facendo l'abdominale. Allora, facciamo la prima plancia. Allora, posiziono per un minuto questa posizione che potrebbe essere allungata, però di solito tra un minuto e l'altro io posso spostare il movimento della plancia. Allora, tiro su gli abdominali. Applico una piccola pressione tra i gomiti e i piedi che si stanno proprio come avvicinando. Proprio una piccola trazione. I abdominali sono molto tesi. Tiro su i fianchi. tiro dentro l'abdome. Ok? E lo proviamo di tenere al massimo un minuto. Si può interrompere già a 20 secondi. Siamo già a 30 secondi, ragazzi. Complimenti. Ok? Continuate a tenere questa posizione. Andiamo avanti per 30 secondi. Ok? Continuate. Ci mancano 15 secondi. ci siamo quasi, ragazzi. Tenete gli abdominali belli. Taisy, taisy, taisy. Ok? Ci siamo. Saranno l'ultima. 5, 4, 3, 2, 1. And relax. Ottimo. Passiamo al prossimo esercizio. Questo esercizio si chiama Russian Twist. Lo potete fare con un peso o senza peso. Scendiamo giù a metà strada e cominciamo a girare il busto avanti e indietro. Ok? Desta e sinistra. Io spesso lo faccio questo con Thunderbell. Ok? Posso garantire anche senza Thunderbell funziona la grande. Ok? Abdominali tesi. Sempre tirando dentro l'ombelico più che possibile. Ok? Facciamo questo bel Abdominali Challenge. Me l'avete chiesto. A me piace esaudire le vostre richieste. Ok? Ci mancano ancora 35 secondi, ragazzi. Continuiamo. Destra e sinistra. Bella torsione. Abdominali tesi. Immaginate che state proprio massaggiando organi interni. Continuate. Vai, vai, vai. Abdominali tesi. Ci mancano 15 secondi adesso. 15 secondi. Vai, vai, vai. ultimi. Ultimi, ultimi, ultimi. E 5, 4, 3, 2 e 1. Passiamo al prossimo esercizio. Bravo. Altro esercizio. Incroci la gamba sopra l'altra. Ok? E solleva l'altra gamba a squadra a 90 gradi. E chiudiamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mantieniti in centro. Tieni la posizione. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Di nuovo in chiusura. 8. Scusate, mi sposto poco a poco perché c'è un sasso sotto la schiena. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Trattieni in centro. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ottimo, 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Mantenete la posizione. 8, 7, 6, 5, 4, 3. E cambio lato. Ok, cambio la gamba. Solleva sempre nel modo uguale. E continuiamo. 8, 7, 6, 5. Tiri sulle fianchi. 3, 2. In centro, trattengo. Spalle e fianchi proprio chiusi. Ok? Ancora. 4, 3, 2. Di nuovo andiamo. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Trattengo in centro. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ottimo, 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. And relax. Andiamo sul prossimo esercizio.